Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove andremo ad approfondire l'installazione del piano cottura a induzione che vi ho mostrato qualche video fa. Come detto durante questo video infatti, se noi andiamo a prendere le specifiche del costruttore possiamo vedere come un piano a induzione abbia un assorbimento massimo veramente molto elevato. Nel mio caso parliamo infatti di 7800 Watt. Il fatto che il piano a induzione possa assorbire 7800 Watt è un grosso problema visto che nelle nostre case i contratti sono tipicamente da 3000 Watt. Come fare quindi a conciliare l'utilizzo di un piano a induzione, nel mio caso anche di un forno elettrico, con un contratto da 3 kW? La soluzione di molti utenti è quella di fare un aumento di kWatt. Ora, l'aumento di kWatt comporta diversi problemi. Prima di tutto costa aumentare i kWatt, aumenta il costo mensile e oltre a questo bisogna adeguare l'impianto elettrico sia per permettere che l'interruttore generale supporti effettivamente questi kWatt in più in ingresso e bisogna adeguare anche le linee all'interno della casa per fare in modo che possano effettivamente arrivare questi kWatt laddove servono. Io, non volendo fare niente di tutto questo, mi sono ingegnato per trovare il modo di conciliare alla perfezione piano cottura a induzione, forno elettrico, tutti gli altri elettronistici di casa e il contratto da 3000Watt. Partiamo subito, quindi, analizzando i dati che abbiamo a disposizione. Innanzitutto, il piano cottura non consuma 7800Watt neanche se mettiamo tutti e quattro i fornelli al massimo. Questo, ho ipotizzato, dipenda da diversi fattori. Il primo è che il consumo massimo è un consumo puramente teorico. Nella realtà, il consumo è sempre leggermente inferiore. A parte questo, bisogna considerare che per avere effettivamente il massimo della potenza dal piano a induzione, la padella che andremo a mettere sul fuoco deve essere molto larga, deve avere un fondo molto spesso e quindi devono esserci tutte le condizioni favorevoli per fare in modo che il piano cottura utilizzi tutta la potenza a sua disposizione. Quindi, già con queste informazioni, possiamo vedere come un piano cottura a induzione consumi meno di quello che ci aspettiamo. Quanto meno, se metto una padella grande per far bollire l'acqua della pasta, il consumo sarà di circa 1800 watt. Questa modalità di cottura della pasta, veramente molto potente, è la potenza massima del piano cottura che normalmente non viene mai utilizzata se non per questo scopo preciso. Di solito, io utilizzo delle cotture a un livello 6-7, decisamente meno energivore. In ogni caso, possiamo dire che con tutti e quattro i fornelli insieme possiamo arrivare a un massimo di circa 5000 watt. Che sono comunque tanti per il nostro contratto da 3000 watt. Però, se consideriamo che non faremo mai bollire quattro pentole d'acqua in contemporanea, possiamo dire che il consumo massimo del nostro piano cottura si aggira più realisticamente su 4000 watt o poco meno. Ora, se 4000 watt ci sembrano più ragionevoli, dobbiamo tenere in considerazione che dentro casa sono presenti anche altri elettrodomestici, lavatrici, lavastovigli, phon, nel mio caso il forno elettrico. L'unico modo per non far saltare la corrente, quindi, è fare attenzione e utilizzare soltanto i dispositivi a limite con la corrente che abbiamo a disposizione. Come ho detto inizialmente, i contratti in base sono da 3000 watt. In realtà, però, noi possiamo utilizzare più di 3000 watt. Infatti, ci viene concesso il 10% in più di corrente prelevabile. Il nostro contratto da 3000 watt prevede 3300 watt disponibili. Inoltre, ci viene concesso per un periodo massimo di 180 minuti, vale a dire 3 ore, che io giudico tranquillamente a tempo indeterminato, visto che non starò mai 3 ore con degli assorbimenti così alti sull'impianto elettrico, un quantitativo di corrente che può arrivare circa fino a 3900 watt. Oltre ai 3900 watt possiamo sforare più o meno liberamente, ma entro un paio di minuti salterà il contatore generale. In buona sostanza, diciamo che noi dentro casa abbiamo una corrente a disposizione di 3900 watt. 3900 watt non sono i 5000 watt di cui potremmo aver bisogno, non sono gli 8000 watt che potremmo richiedere tramite aumento dei kilowatt per utenza monofase, ma sono comunque molti più dei 3000 che pensavamo di avere. E con una certa attenzione degli elettrodomestici che accendiamo in contemporanea, possiamo tranquillamente utilizzare un piano cottura a induzione e un forno elettrico senza grossi problemi. Ora sicuramente starete pensando, sì Giulio hai ragione, se mi facessi tutti i conti effettivamente potrei utilizzare piano cottura e forno elettrico, ma intanto come faccio a sapere quanta corrente ancora a disposizione dentro casa, ma soprattutto se non voglio per un qualsiasi motivo preoccuparmi in maniera così meticolosa del consumo di corrente, come posso avere un piano cottura a induzione e un forno elettrico senza fare questo benedetto aumento dei kilowatt? La soluzione si chiama gestore di carichi. Il gestore di carichi è un dispositivo che come vedete ha diverse funzioni. La prima è mostrarvi quanti kilowatt state consumando in un preciso momento, oltre ovviamente ai volt e agli ampere. E questo è un primo grandissimo aiuto. Se infatti state cucinando qualcosa, potete vedere quanti kilowatt state utilizzando, sapere che avete a disposizione fino a 3900 watt e quindi regolarvi con gli altri elettrodomestici, oppure vedere subito se state sforando e quindi prendere provvedimenti e staccare ciò che sta consumando troppo prima che la corrente vada giù. Come ho detto però, molte persone sono pigre o semplicemente non vogliono stare dietro a queste cose. Ed è qui che il gestore di carichi fa la sua parte. Infatti, impostandolo adeguatamente, nel mio caso l'ho impostato per un consumo massimo di 3900 watt e un tempo di intervento abbastanza ridotto, questo gestore di carichi ci permette di spegnere automaticamente ciò che sta consumando troppo, lasciando allo stesso tempo l'alimentazione a delle linee prioritarie che non vogliamo si ritrovino senza corrente, come per esempio le luci. Per ottenere questo, il gestore di carichi va cablato in una maniera abbastanza particolare ma relativamente semplice. In alto dobbiamo inserire l'alimentazione stessa del gestore di carichi, andandolo quindi a collegare come se fosse un qualsiasi dispositivo tramite cavi fase e neutro direttamente all'interruttore generale. Al di sotto, al contrario di un qualsiasi interruttore da quadro elettrico che si collega tramite fase e neutro, troviamo un ingresso di una fase e troviamo due uscite di due fasi distinte. L'ingresso della fase andrà collegato direttamente all'uscita dell'interruttore generale, quindi attraverso questo gestore di carichi passerà effettivamente tutta la corrente di casa. Alle due uscite invece dovremo collegare la linea che vogliamo venga spenta in caso di superamento della potenza disponibile, andando a collegare quindi l'uscita LN fase non prioritaria all'ingresso della fase dell'interruttore della linea che vogliamo venga spenta durante il superamento della potenza disponibile e dovremo andare a collegare l'uscita LP, vale a dire fase prioritaria, quella che non viene spenta mentre c'è un superamento della potenza disponibile, all'ingresso dell'interruttore. Ora so che sembra un gran casino ma qualsiasi elettricista competente, aiutandosi anche con lo schema di cablaggio che viene inserito nel manuale presente in confezione, è in grado di installarvi questo comodo e utile dispositivo che potete utilizzare sia per verificare il consumo immediato dentro casa, sia per fare in modo che venga staccata la corrente nel caso di superamento del limite, o anche solo per avere un promemoria acustico nel momento in cui l'assorbimento dovesse essere troppo elevato. A un costo non del tutto regalato di meno di 70 euro risulta comunque essere più economico rispetto a un aumento di potenza dal vostro gestore di energia elettrica. Certo, non vi permette effettivamente di utilizzare molti kilowatt in più rispetto a quelli disponibili, anche se come vi ho mostrato potete arrivare felicemente a 3900 watt, ma ciò nonostante, con un'attenta pianificazione e soprattutto con una gestione degli elettrodomestici ben divisa durante le ore del giorno, vi permette di avere, come nel mio caso, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, climatizzatori, piano cottura e induzione e forno elettrico, oltre ovviamente al classico forno a microonde, computer, televisione e tutti gli altri dispositivi, senza per questo dover rinunciare a nessuno. Ovviamente la limitazione di questo dispositivo è che non avremo effettivamente a disposizione più kilowatt, semplicemente potremo gestire al meglio i 3900 watt che abbiamo a disposizione con un contratto normale. Per alcuni questa può essere comunque una limitazione, per esempio non potrete utilizzare il forno mentre sta andando una fonna, per esempio, visto che andremo a sforrare di molto la potenza disponibile, però con un po' di pianificazione e un po' di attenzione ci permette effettivamente di avere molti elettrodomestici dentro casa, nel mio caso asciugatrice, lavatrice, lavastoviglie, climatizzatori, forno elettrico, piano induzione, forno a microonde, televisore e computer, senza per questo dover fare adeguamente all'impianto elettrico, richiedere costosi aumenti di potenza o qualsiasi altra cosa. Per me infatti il vero vantaggio di questo dispositivo non è tanto la potenza in più prelevabile, ma il fatto di non dover ogni volta scendere fino al piano terra, uscire fisicamente dal palazzo in cerca del contatore per andarlo a riattivare ogni volta che per distrazione faccio saltare la corrente. Ha un costo quindi relativamente contenuto e con un'installazione che un elettricista professionista può eseguire in maniera abbastanza semplice, ecco come ho risolto il problema di una casa completamente elettrica, senza per questo dover richiedere un contratto più potente dei classici 3000W. Se questa soluzione ti è piaciuta lasciami un mi piace, se anche te eri in cerca di un sistema per poter utilizzare molti elettrodomestici dentro la tua abitazione e ti sono effettivamente stato d'aiuto con questa spiegazione, lasciami pure un commento e dimmi cosa ne pensi, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!